Musica Impennata di recovery e record assoluto di contagi nelle marche Oltre 900 positivi al covid e 12 decessi in 24 ore A Pesaro primo giorno di screening alle media, affluenza oltre 70% Domani i tamponi anche agli studenti, insegnanti e personale ATA delle scuole superiori Percorsi dedicati e un'equipe di eccellenza Ecco l'attività della diabetologia che cura oltre 8000 pazienti e conta più di 15.000 visite all'anno Il governo allunga il fermo pesca, l'appello di Tonino Giardini che chiede il ristori e la possibilità di gestire il lavoro in base all'andamento del mercato Buonasera e benvenuti a questa nostra nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia Lo avete sentito dai titoli, il record assoluto di contagi da coronavirus in un giorno nelle marche Sono 919 quelli rilevati tra le nuove diagnosi in 24 ore Tra i quali circa la metà, 437 in provincia di Ancona In aumento anche i ricoveri negli ospedali, più 22 rispetto a ieri I pazienti in terapia intensiva sono 87, mentre quelli in semi intensiva 168 Rimane alto anche il numero di decessi, 12 le vittime nell'ultima giornata Tra cui due persone residenti nella provincia di Pesero Urbino Si tratta di un uomo pesarese di 88 anni e di un'anziana 81enne di Sasso Corvaro E a Pesero questa mattina ha preso in via lo screening nelle scuole medie per studenti, insegnanti e personale ATA Un'occasione da accogliere, ha detto il sindaco Matteo Ricci Speriamo che la regione e il paese ci seguano in questo esempio virtuoso Tutti i particolari nel servizio di Angelica Pansieri Al via lo screening nelle scuole medie e superiori pesaresi Questa mattina siamo venuti alla scuola media a Pirandello Dove l'adesione è stata altissima, così anche negli altri istituti Il primo giorno di screening nelle scuole medie pesaresi Per studenti, insegnanti e personale ATA Registra un'affluenza che va oltre il 70% Questa mattina è toccato alle scuole medie Dante Alighieri Nuova scuola Tonelli, Galilei, Pirandello ed Olivieri La macchina ha funzionato Nelle palestre dei vari istituti sono stati adibiti gli spazi per fare i tamponi Raggiunti dagli alunni senza che si creasse alcun tipo di assembramento A fare il tour tra gli istituti, già dalle prime ore di questa mattina Anche il sindaco Matteo Ricci, che ha commentato così la grande operazione avviata dal Comune La dimostrazione è che una scuola sicura si può fare se c'è uno screening periodico Ormai lo diciamo da mesi, ci siamo sgolati Avevamo immaginato che alla prima difficoltà si sarebbero richiuse le scuole Ed è quello che sta avvenendo in tutta Italia E credo che la chiusura delle scuole debba esserci soltanto in casi estremi Quando non si può fare altro, quando tutte le altre strade sono state provate Quella dello screening agli studenti è l'unica strada per poter avere una scuola sicura È un problema che poniamo alla regione da mesi, del tutto inascoltati C'è un'opportunità da accogliere È chiaro che quando vai nelle scuole, come stiamo facendo oggi L'affluenza si alza, soprattutto se i presidi, gli insegnanti spingono in questa direzione Quando invece fai un punto unico dove devono andare tutti È chiaro che l'affluenza naturalmente si abbassa Vogliamo fare di Pesaro uno dei luoghi più sicuri dal punto di vista scolastico E tra i primi a tamponarsi alla Pirandello anche la preside Cinzia Biagini È l'unico strumento che ci consente di avere il polso della situazione nel momento attuale E che ci garantisce l'attività in presenza Perché il mondo della scuola sta difendendo l'attività in presenza Vogliamo finire la scuola in presenza Noi abbiamo sempre lavorato in presenza e vorremmo continuare così fino a giugno La grande operazione avviata dal Comune di Pesaro Assieme ad Ail, Croce Rossa Protezione Civile Con il sostegno di Aspes e dei dirigenti scolastici È proseguita anche nel pomeriggio di oggi al campus Dove dalle 14 alle 20 si sono sottoposti allo screening Educatrici, docenti e personale ATA di Nidi, Scuole dell'Infanzia e Primari Da domani, venerdì 5 marzo Le operazioni proseguiranno Dalle 8.30 alle 13 saranno tamponati gli studenti, insegnanti e personale ATA delle scuole medie Leopardi, Gaudiano e Manzoni E nel pomeriggio, dalle 14 alle 20, toccherà agli studenti ed insegnanti delle scuole superiori di Pesaro Il centro sociale Monaldi alla celletta di Pesaro non basta più Troppo piccolo come unico luogo dedicato alle vaccinazioni Che ha ospitato fino ad oggi anche tutti gli anziani, ovvero 80 provenienti dall'entroterra Da qui l'incontro questa mattina di tutti i sindaci dell'Unione dei Comuni Pian del Bruscolo Uniti per chiedere alla regione di individuare altre sedi per le vaccinazioni future Due a Pesaro, una a Montecchio di Vallefoglia e un'altra a Gradara Tutto questo per evitare che le persone più fragili e non solo Debbano continuare a percorrere decine e decine di chilometri Per raggiungere il sito della celletta di Pesaro Ora la palla rimbalza alla regione Chiediamo alla regione da subito di cambiare il piano di vaccinazione, così non va Noi chiediamo almeno 4 punti, 2 su Pesaro, 1 a Vallefoglia e 1 a Gradara Come minimo, perché abbiamo già visto in questi giorni Basta la rottura di un computer o il mettere tutti insieme gli anziani Con gli insegnanti che si crea il caos Quindi servono più punti La campagna di vaccinazione deve essere più diffusa nel territorio E questo è un grido di dolore anche degli altri sindaci, delle aree interne Che tante volte hanno detto che sono troppo pochi punti di vaccinazione Quindi spero che anche su questo ci ascoltino Perché se andiamo avanti così il piano di vaccinazione si rallenta E rischia di avere dei problemi organizzativi Noi stiamo mettendo a disposizione tutti i centri anziani che hanno già dato la disponibilità Abbiamo già guardato grazie agli industriali diversi capannoni Quindi dobbiamo cambiare registro perché così non va E nonostante la grande dedizione degli operatori Nonostante anche il rigore degli anziani in particolar modo Che sono molto precisi e molto rigorosi E il posto è troppo piccolo per fare il vaccino a un numero così grande di persone In riferimento a servizio trasmesso nel nostro telegiornale di martedì scorso Sulle vaccinazioni agli anziani a Pesor nel quale una persona da noi intervistata Aveva espresso un parere negativo nei confronti dell'azienda ospedaliera Marche Nord Teniamo a precisare che le vaccinazioni degli over 80 sono di competenza Asur Pertanto la scelta del centro sociale La Celletta non è stata presa da Marche Nord Che in questo caso è completamente estranea Bensì dall'Asur Area Vassa 1 Sono più di 8 mila i pazienti con diabete assistiti a Fano e a Pesor Nei giorni scorsi ci siamo recati all'ospedale di Moraglia Per conoscere l'attività ma anche i percorsi dedicati all'interno dell'unità operativa di diabetologia 5.200 pazienti assistiti a Pesor 3.500 a Fano e oltre 15.000 visite di controllo all'anno Sono numeri importanti quelli che arrivano dalla diabetologia Che grazie alla sinergia tra Asur e azienda ospedaliera Marche Nord Consente la presa in carico dei pazienti del territorio E l'individuazione per ciascuno del cosiddetto setting assistenziale adeguato L'unità operativa fa parte del Dipartimento di Medicina Interna Diretto dal dottor Gabriele Frausini La struttura specialistica non deve curare tutti i diabetici Ma deve focalizzare la sua attenzione e le sue risorse Soprattutto sui pazienti complessi Sui pazienti che hanno comorbilità Sui pazienti che hanno delle complicanze Sappiamo che il diabete porta delle terribili complicanze A livello oculare, a livello cardiaco A livello renale, a livello vascolare E allora noi dobbiamo curare Con la massima attenzione, prevenire e curare Questi tipi di complicanze La diabetologia spiega il primario Composta da 4 medici più un quinto Che arriverà al 13 marzo Un'equipe d'eccellenza ci spiega Frausini Che non hanno tutte le realtà marchigiane Inoltre questi dottori sono esentati Dai turni di guardia Da quelli festivi e notturni Facendo sì che durante la settimana Ci sia sempre un medico in più Per i pazienti poi Visto che sono gravati da rischi maggiori C'è un percorso dedicato Dal triage alle fasi di ricovero e di dimissione Stessa situazione per le donne in gravidanza Collaboratori in tutta sicurezza Altro ruolo fondamentale È la telemedicina messa a punto da Marche Nord Chiaramente non tutti i pazienti Vengono visti in presenza Ma tutti quelli che hanno bisogno Hanno la possibilità di poter accedere Sia come prime visite Che non sono mai state interrotte Sia come visite di controllo Nel momento in cui la presenza del paziente è necessaria Inoltre abbiamo implementato una serie di tecnologie Per cui il telemonitoraggio della glicemia L'impianto dei sensori anche a distanza E con questo grazie al fatto che i dati poi vengono trasmessi in cloud Possiamo poi poter monitorare il paziente anche a distanza Il paziente poi che invece va incontro a uno scompenso glicometabolico Ha la possibilità di accedere al nostro day hospital Per poter evitare spesso dei ricoveri ordinari O accessi non appropriati in pronto soccorso Ad elencare invece le esigenze della categoria È il dottore Emilio Augusto Benini Presidente della Federazione Regionale Associazione Tutela dei Diabetici E presidente nazionale FAND Continuità terapeutica Il secondo aspetto è quello di avere i team diabetologici Nel loro completo Nella loro completezza Perché il diabetico ha bisogno non solo del medico specialista Ma magari anche della dietista Del podologo Dello psicologo Il terzo aspetto fondamentale È quello che chiediamo È quello di avere un maggior investimento Per quelle che sono le nuove tecnologie Nuove tecnologie e nuovi farmaci In questi giorni si è parlato anche di una carenza di organico Di locali insufficienti Che cosa risponde alle polemiche? Ma io vorrei lasciare da parte queste polemiche E lasciarle ad altri Siamo veramente amareggiati Questo sì perché ci stiamo dando da fare E i numeri ci danno la ragione Rimaniamo comunque in un attento ascolto Tutti quelli che possono essere I suggerimenti costruttivi E ribadisco costruttivi Che possono venire dai pazienti e dalle associazioni Cambiamo argomento Parliamo del settore della pesca Che è in difficoltà con i giorni lavorativi Che sono stati ridotti a 150 su 365 Oggi Letizia Marchionni ha raccolto L'appello di Tonino Giardini Presidente di Coldiretti Impresa Pesca Al fermo pesca tradizionale Che bloccava già dagli anni passati L'attività di pesca nel periodo estivo Per una trentina di giorni Si sommano anche delle giornate Di fermo obbligatorio aggiuntive Per le imprese che esercitano la pesca Mediante l'utilizzo di attrezzi trainati Con rete a strasci coevolante Il fermo pesca Dettato da un protocollo dell'Unione Europea Che varierà in base alla lunghezza degli scafi Fino ad arrivare a un massimo di 39 giorni È stato disposto dal Ministero Lo scorso gennaio Per un motivo ben preciso Ovvero che il mare è sempre più povero Ed il pesce scarseggia In questo modo I giorni lavorativi per le imbarcazioni Si riducono notevolmente Ha spiegato Tonino Giardini Presidente di Coldiretti Impresa Pesca In soli 150 giorni all'anno Le imprese devono fare reddito Per 365 Un problema che si riverbera Non solo sulle imprese Ma anche sugli equipaggi Diciamo però che in questo momento Quelli che stanno soffrendo di più Sono le imprese Perché l'equipaggio Ha una perdita Che è proporzionata al suo guadagno Ma poi al di sotto di un minimo monetario Non si scende L'imprenditore Se non riesce a far quadrare i propri conti Va in perdita E lavorare 140 giorni 150 giorni E riuscire a coprire tutti i costi Le spese Per 365 giorni all'anno Diventa assai difficile O il pesce Lo vendiamo a peso d'oro Ma questo non succede Perché il nostro paese Importa l'80% Del consumato Questo quindi significa Che importa da paesi Prevalentemente Extraeuropei E quindi a prezzi bassissimi E questo va a calmirare Ad abbassare La capacità Di far reddito Delle nostre imprese Perché il pesce Gli viene pagato Allo stesso prezzo Delle importazioni Che non coprono Che non coprono i costi Su questo fronte Ha continuato Giardini Siamo uniti Sia noi come associazioni di categoria Che con le associazioni sindacali Tutti abbiamo a cuore il settore E vogliamo che queste diminuzioni di attività Cessino il prima possibile O nel caso questo non sia fattibile Poiché le risorse a mare Sono in difficoltà Chiediamo sostegni concreti Quello che noi abbiamo chiesto Sono due interventi Da parte del governo Il primo è un sostegno Alle imprese Con diciamo Come sta avvenendo adesso Per il covid Per diciamo Forse speriamo Qualcosina di meglio Perché finora Anche le imprese a terra Con il covid Non è che abbiano ottenuto Grandi risultati Per i marittimi Abbiamo la cassa integrazione Quindi abbiamo già Un supporto L'altra soluzione È quella Di poter fare in modo Che le giornate di pesca Vengano gestite Con un Plafondi giornate Che le imprese Utilizzano In base alle necessità In base al mercato Sant'Urso non è un quartiere criminale Ne è convinto Il vicepresidente Della regione Marche Mirko Carloni Cresciuto in via Soncino Che condanna L'immagine del quartiere fanese Data dalla canzone Di un giovane trapper Di Fossombrone Si intitola I miei G O tradotto dal gergo inglese I miei amici La canzone Che nei giorni scorsi Ha scatenato le proteste E l'indignazione Dei residenti Del quartiere Di Sant'Urso di Fano Scritta da Young Speed Trapper di Fossombrone Di 22 anni La canzone Il cui videoclip È stato girato Proprio nel quartiere fanese Mostra sulle note Di una base trap Gang di ragazzi Che tra fumogeni Sgommate a bordo Delle loro moto E lotte Fanno passare Il quartiere di Sant'Urso Come un luogo Pieno di criminalità E degrado A prendere posizione È il vicepresidente Della regione Marche Mirko Carloni Cresciuto proprio In questo quartiere In via Soncino Nei giorni scorsi Un rapper Avrebbe girato Un film In questa via In via Soncino A Sant'Urso Dipingendola come Un luogo di degrado Ai margini Dove ci sono Le gang giovanili Che si menano Che scappano Davanti alla polizia Ecco io credo Che non possiamo Rimanere indifferenti Di fronte a una Strumentalizzazione Di questo tipo Io sono cresciuto Qui in via Soncino Insieme a tanti amici E tanti di noi Hanno cambiato quartiere Ma siamo legati A questo posto E devo dire Che chi è cresciuto Sotto questi palazzoni Non è un criminale Non ha fatto parte Di nessuna gang Quindi questa identificazione Omologazione È abbastanza banale È offensiva E vorrei lanciare Soprattutto un messaggio Sant'Urso Non è un luogo criminale I giovani Che sono cresciuti E che crescono In questo quartiere Hanno sicuramente Una densità molto alta Per errori anche Urbanistici del passato Ci sono tante case Però è un quartiere vivibile E credo che Sia profondamente ingiusto Lanciare questo messaggio Anche perché È scorretto Anche perché Crea un modello Di riferimento Sbagliato In stile criminale E io vorrei fare Un messaggio Ai giovani di Sant'Urso Non identificatevi In questo messaggio Perché vi vogliono Strumentalizzare È un messaggio commerciale Cercate di vivere La propria vita La vostra vita È di realizzare I vostri sogni Senza farvi ancorare E appesantire Da un'immagine Che non vi appartiene Perché questo Non è un quartiere criminale E la regione Marche Ha liquidato 240 mila euro Il comune di Mondolfo Capofila Della ciclovia Del Cesano È l'anticipo Del 30% Del contributo Di 800 mila euro Assegnato Per la progettazione Dell'infrastruttura E la realizzazione Del primo stralcio Lo comunica L'assessore regionale Francesco Baldelli Il comune D'altra parte Si è impegnato Ad approvare Il progetto di fattibilità Entro marzo E i progetti Definitivo ed esecutivo Entro giugno Dopodiché Passerà alla gara D'appalto Nel mese di agosto Così da rispettare La scadenza dei lavori Che dovranno concludersi Entro il prossimo 31 di dicembre Il comune di Cartoceto Invece rinnova Il parco mezzi Dopo aver partecipato Con successo Al bando della regione Marche Per lo sviluppo E la diffusione Della mobilità sostenibile Con un contributo Di circa 100.000 euro Un'opportunità importante Che consente al comune Di dotarsi di Quattro veicoli A trazione totalmente elettrica Che andranno A sostituirne altrettanti Tutti di categoria inferiore All'euro 3 E dunque più inquinanti E sprovvisti Delle moderne tecnologie Che garantiscono Una maggiore sicurezza E affidabilità Prossimamente Fanno sapere Verranno installate Delle colonnine Di ricarica Per auto ibride Ed elettriche E tra poco Un approfondimento Con tutte le interviste Che abbiamo realizzato Nell'unità operativa Di diabetologia Che fa parte Del dipartimento Di medicina interna Dell'azienda ospedaliera Marche Nord Grazie per aver seguito Il telegiornale Occhio alla notizia Arrivederci Il telegiornale Occhio alla notizia Grazie per aver guardato il nostro canale